La celebrazione eucaristica del prossimo venerdì 1 marzo non è un'iniziativa della Chiesa di Carpi, ma è la risposta della Chiesa di Carpi a un appello che l'insieme delle conferenze episcopali dei paesi che lambiscono e che sono lequalizzate in Europa, cioè non solo la comunità europea, hanno chiesto di fare mettendo insieme due cose, una messa per il sinodo, per la riuscita del sinodo e una messa, la stessa messa, per le vittime delle guerre, in particolare dell'Ucraina e della Palestina. Come mai queste due cose messe insieme? Mi pare che si possa scorgere un nesso profondo. Il sinodo cerca la collaborazione tra le nazioni e ha un bel impatto sull'Europa, oltre che essere una cosa mondiale, quindi anche la Chiesa di Carpi vuole pregare, perché davvero il processo sinodale sia un incontro tra le persone, una divisione della responsabilità e quindi la sinodalità prepara la pace e certamente è uno sfregio alla sinodalità il fatto che ci siano vittime di guerra. Per la guerra, direi, l'Europa è consapevole di essere stata, dalla storia, violentemente sensibilizzata, perché alcuni anni fa pensavamo che le guerre grandi non ci fossero più. Con la Seconda Guerra Mondiale era cominciato un tempo di pace, o perlomeno le guerre erano molto lontane, in paesi esotici. Adesso l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e la violenza indicibile che attraversa il territorio di Israele e la Palestina ci costringono a dire no, no, la guerra è molto vicina e quindi mentre cerchiamo di vivere una sinodalità in cui ci incontriamo, non possiamo non pensare le centinaia di migliaia di vittime, di personaggi che ci appartengono, che sono vicine all'Europa come noi. Quindi penso che sia bene rispondere con il cuore largo dicendosi, Signore, ti chiediamo di essere capaci di fare il sinodo e ti chiediamo di diffondere un'atmosfera di Vangelo che diminuisca, elimini fino in fondo il numero delle troppe vittime. Grazie. 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 Grazie.